Uno spiraglio di luce nello scenario di distruzione che ha devastato l'Emilia colpita dal terremoto con le aziende in ginocchio, le case distrutte, le chiese crollate o inagibili. Per questo Telepace ha deciso di lanciare un appello per la costruzione di una chiesa prefabbricata a Novi di Modena, a poca distanza da quella di Rovereto di Novi in cui è morto il parroco Ivan Martini. Dalla nostra diocese, che è una piccola diocese di Carpi, una cinquantina di chiese sono state legionate o distrutte proprio in un modo irreparabile. Lei pensi che su una cinquantina di chiese soltanto tre sono agibili in città a Carpi perché sono chiese di recente costruzione? Perché è così importante poter avere una chiesa a Novi? Perché il luogo di culto è il punto di riferimento di tutta una comunità. Quando in una comunità, per dire, viene meno questo cento di aggregazione, vuol dire che dobbiamo in qualche modo pensare a riunirci. E allora riunirci all'aperto può essere, diciamo così, una scelta temporanea. Però è il luogo di culto, ma direi che è proprio il punto di riferimento di ogni comunità. Poi nella chiesa stessa è lì che ricorda tutto quello che sono stati gli avvenimenti importanti della nostra vita di comunità. Mattimoni, funerali, prime comunioni, cresime. La chiesa sarà lunga 21 metri, larga 10 e sarà una struttura polivalente, utilizzabile anche per incontri e riunioni, per un costo di 150.000 euro. Sarà dedicata a Giovanni Paolo II e a Maria, stella dell'Evangelizzazione, di cui ospiterà questa immagine proveniente da Cerna. Già in Irpini a Trepace aveva inviato una quarantina di roulotte. All'Aquila è stato realizzato un monastero di clausura prefabbricato per le clarisse di Paganica, tutto con le offerte inviate dai telespettatori. C'è da dire che gli ascoltatori hanno telefonato, hanno chiamato, hanno sollecitato, hanno detto quasi quasi è uno scandalo che Telepace, che dà voce a tutti in questo momento non dia voce anche con la solidarietà, oltre che con la preghiera, per queste famiglie dell'Emilia e per queste parocchie in modo particolare dove le chiese sono state quasi tutte distrutte. Nonostante i debiti quindi è impegnata in questa cosa? Ma io dico che proprio per i debiti che ha Telepace, proprio perché è povera, pensa ai poveri e io sono certissimo che se provvederà questa chiesetta alla parrocchia di Novi di Modena, della diocese di Carpi di Modena, sono certissimo che Telepace andrà avanti perché il suo ruolo, il suo impegno è proprio questo.